Forse una donna è destinata ai quai quando si accomoda troppo. Vuoi dire quanto è felice? Vuoi il signore insla adora? Già, vero? E tu proprio non vuoi sopportarlo, vero Silvia? Sopportare cosa? La felicità di me che ti apelisce. Nancy Blake. Se c'è una cosa che posso dire di me stessa è che non sono mai stata gelosa di un'altra donna. Perché dovrei essere gelosa di me? Perché è soddisfatta di essere quello che è. Che cos'è? Una donna. E si può sapere che cosa siamo noi invece? Bene, bene. E di tutto quello che conta, il nome, la posizione e i denari. Mi importano queste cose. Stai lontano un mese, due. Non c'è niente di meglio che una buona dose di un'altra donna per fare apprezzare ad un uomo la propria donna. Buona, ti ragione. Sì? Divorzeremo. Oh, caro, l'abbiamo saputo. Non te l'abbiamo deciso questa notte. Non sposate mai un uomo che abbia lasciato una brava donna. È allegro come se avesse appena ammazzato la vecchia madre. Non c'è niente di peggio per una donna che dormire in un lento pieno di vecchi ricordi. Non c'è niente di me, ma senza inganno. Ma non c'è inganno di nulla. Lascia pure che ti prenda in giro finché resta con te. Se si prende la pena di ingannarti vuol dire che non è indifferente, no? Tu invece hai il complesso di generetto. Dice che moltissime donne accidentali lo hanno. Crescono con l'idea del matrimonio che un uomo ricco sia l'unico scopo della lotta. Dice che non soddisfano i loro mariti e non funzionano come animali da riproduzione. Bene, ma dov'è il corpore? È un lusso che madonna innamorata non si può permettere. Spero che non venga mai il giorno in cui un essere insignificante come questo mi baccherà se l'esce un d'amore. Rosso Giungla Tutti impazziscono per questo.